guardate qua mio figlio ma quanto bello è suo padre comunque salve la gente qui gabbie e benvenuti su bus your daddy ecco in questo episodio io e il buon hitfox che saltella legge di questo nuovo video ecco il post intera di suicidarsi in vari modi possibili dai fammi vedere come ti suicidi guardalo come corre guarda motoretta guardatelo che vuole prendere fuggire no lo prendo io lo prendo ma di schifo che voleva spararsi guarda ora ti chiudo la via di fuga così io me ne vado lo stesso è andato non mi dire che sia nascosto dentro i cassetti lui ama mangiarsi le batterie eccolo qua guardatelo che vuole entrare in frigo vieni fuori non so cosa sto bambino che vuole suicidarsi come si prende l'ho chiuso dentro i detersivi ma porco cane vai prendili qua in basca da bagno se ci c***o mio figlio è un cavolo di di battusso siamo i vattussi siamo i vattussi i piccolissimi pezzi carbonizzati ritentiamo e questa volta sarò io il pazzo suicida perché c'è un quadro delle banane che vibra a destra buttati dal balcone voglio vederti buttare dal balcone da spettacolo ora per adesso suicidati tu guardatelo suicida devo farmi fuori prima io prima che si faccia fuori lui ti aspetta in cucina per la sfida mortale ok allora adesso andiamo subito a prendere le batterie dove mio padre dove mio padre non lo ho batterie batteria mamma mia dura c'è il così più energia per suicidarmi meglio dopo non le voglio farmi il bagnetto voglio soffocare in 30 metri sotto il mare così tipo quasi arrivato se la merda dove l'hai messo vedo cose volare così papà perché il potere della tele cinesi tu e io voglio entrare nel trono di mio papà mai ho sentito tipo un odorino strano e sicuro sono bambino e non so cosa posso ecco ma tu stai morendo sei verde ma cos'è sta roba chiudi qua ma papà e questa è la mia vera culla ma che vero è viola è viola perché eri viola non lo so ma papà elimina le prove papà elimina le prove tira l'acqua del volo ti calpesto faccio un salto ti sto saltando in testa ma cosa ha fatto la natura quella volta che mi ha dato questo bimbo è volerti anche il travione di tua moglie che bel cesso che ti sei preso no appena ti sto per buttare giù la lampada io ho un nuovo figlio questo sarà il mio figlio eccolo qua una lampada in culla perché mi sono stufato preferisco le lampade a te piccolo moccioso piccolo dannato moccioso tu non capisci niente devo sculacciarti farti diventare rosso guardatelo la che sguscia sempre dentro guarda sparisce non è un figlio o un mago non imbasca da bagno non imbasca da bagno guardatelo leviamoli il trono è troppo tardi guardatelo si vuole annegare va bene dai annega paperella tu sei la mia paperella dai facciamo il bagno ti lavo con il sapone guardate quel rosa no dai costi detersivi cavolo candeggina ma quante volte ho detto mia moglie di metterli in alto che non li raggiungesse cosa in manata cosa in mano da me l'acqua mannaggia tu e la tua forchetta che è un'arma letale in questo gioco no no ma perché io come faccio ci sono le grate lui si appiattisce talmente tanto che riesce a superarlo e poi tutti sti quadri di banane aspetta se ne aspetta se ne aspetta se ne aspetta se banana ecco che ti rigenero ma basta questo martello ma nato al tavolo sto figlio mangio mangio vetro un figlio che si mangia tocchi di vetro ma mia moglie è pelata e con gli occhi strabici che sono fuori dalle orbite e ora ho capito tu siccome sei così brutto come il cesso di mia moglie vuoi farla finita sei una merda sei sempre a bere cose non è succo di frutta di prugna è succo normale ok allora bella mela mangiata ok continuiamo a dargli cibo anche qua si può basta questo forno basta che quelli sono i segreti di tua mamma sono i segreti di tua mamma no 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 la spazzatura via blocchiamo la porta così non entra mia moglie e non può vedere il casino che stiamo fabbricando assieme cos'è quell'oggetto luminoso la chiave la chiave segreta è adesso arriva a casa mamma ho perso allora adesso devo sfasciare una tv perché dico che è colpa tua che mi hai fatto salire la rabbia sfasciando la tv come sei morto cos'è la chiave era radioattiva e non vedi che luccicava basta adesso ho fatto di sopra e lo rispedisco in orfanatrofio no basta no famiglia o sta a casa sto quadro sta vita è una merda ma c'è di tuo figlio anche se non c'è solo minima e adesso ti chiudo qua ogni polo per l'aldilà tu non passi you shall not mi sono chiuso dentro un bidone della spazzatura dove ne sono passate è già passato mannaggia tutto suo padre tutto suo padre mi lancio come spider man ne vado sotto allora dov'è mio figlio allora per prima cosa devi dirmelo dammi una posizione eccolo la in bagno come corre ma ora subito al detersivo parte l'ora come si è chiuso si è bevuto tutto era tutto aveva ne tolgo intanto il trono vai entra nel cesso quello il tuo posto dove meriti di vivere nel senso che mi sono un limone guarda intanto che ti tiro una banana in testa così ti sopprimo come striscia nei condotti ma cosa sei un alien ho sposato un alieno ma dov'è no una colombiana colombiana mio figlio è un cavolo di asiatico mozap poi tira le puzzette no no le forchette il metallo fa male non suonare il metallo no il metallo fa male cos'è un x man questo dammi la forchetta e la infilzo sulla moquette guarda così dopo mi tirano un coltello se qua qualcuno ti deve uccidere quello sarà il tuo babbo no vai e poi la mamma guarda la polizia e tocca non ti apre un gestino per te fatto cadere un quadro mannaggia ecco poi la guarda quanto carta buona ma devo mangiare no no rendo la carta è stato grano a cogliere amarendo zio pochissima vita metto 32 metto dove sei ti ho dato trovata che culo fatta 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 fermo lasciati dare anche le pillole per le pillole come un vecchio mio padre in pieno piano mi lascia in generale non sei un bambino cancerogeno prima si uccide poi mi chiede le pillole non ho le pillole sono via non ha le pillole cercate ovunque sei un assassino di te stesso quelli come te non meritano di vivere c'è un cavolo di nano dopo ti butto in giardino e ti uso come con cibi per le piante tanto sei verde io ho il pollice verde e creerò le piante più grandi con il tuo corpo sono abbracete qui gabi no questo è il vero di guidarlo abbiamo fatto così e voi non potevi io mi sdraio mi abbronzo mentre guido le moto ok e andiamo a tutta potenza si è a metà potenza ma direi che questa già ci basta per avere un controllo della moto di gabi